La stella Giulia Kuzzup è pronta a tutto per andare al mondiale di categoria, voglio entrare nella spedizione per la Grecia. Parla imperiese il collegiale preparatorio per le azzurrina d'Ostia. Tra le convocate agli allenamento in vista del mondiale di categoria in Grecia, Destinazione Volos, c'è anche il talento imperiese di Giulia Kuzzup è pronta a fare parte delle magnifiche 13 per la spedizione iridata. L'attaccante mancina della rarinantesi Imperia è pronta a mettersi gioco ancora una volta, dopo aver trascinato insieme alle sue compagne di squadra la compagine giallorossa in Serie A 1, ad un anno dalla retrocessione. Noi di Riviera Sport.it abbiamo raggiunto la Kuzzup è dal ritiro di Ostia per delle dichiarazioni esclusive, tra ambizioni e obiettivi la giovane attaccante è pronta a strappare il pass per la Grecia. Giulia Kuzzup è, l'occasione per andare al mondiale di categoria e ghiotta, qual è il suo obiettivo per questo collegiale? Il mio obiettivo ovviamente è quello di far parte delle 13 giocatrici che voleranno a volo sa giocarsi questo mondiale. Capitolo rarinantesi Imperia, cosa si aspetta dalla nuova stagione? Credo che possiamo giocarci un bel campionato. Personalmente darò il 1000 per la mia squadra per rimanere nella massima serie. In Grecia ne entreranno solo 13, quali sono le sue impressioni? Come ho detto il mondiale è il mio obiettivo e ora come ora sto pensando solo e unicamente a quello. Spero che al momento delle convocazioni il mio nome sia presente in quello delle 13. Grazie per la visione!